Sono 33 feriti nella collisione tra due treni in una stazione di Chicago. L'incidente che è avvenuto a loro di punta sarebbe stato provocato, secondo una prima ricostruzione, da un guasto al sistema meccanico. Tra i passeggeri non ci sono feriti gravi, la maggior parte ha riportato contusioni per lo scontro.